Al Motorbike di Verona siamo in compagnia del signor Thomas che è il titolare dell'azienda Nuova Tech. Il signor Thomas è ideatore, creatore di una serie di prodotti a base di ceramica antiattrito per tutti i tipi di motore. Allora, questo prodotto non è un additivo ma un trattamento definitivo che rimane nel motore per circa 100.000 km anche cambiando l'olio. I nostri clienti sono contenti perché qua abbiamo quattro grafici, aumenta la potenza, abbassa i gas di scarico, aumenta la compressione, abbassa la temperatura dell'olio e soprattutto abbassa il consumo di carburante. Siamo a Bussolengo di Verona, abbiamo il sito internet www.ceramicpowerlikit. Si possono leggere oltre 1.000 testimonianze da piloti Formula 1 alla signora Luisa. Tutti quanti trovano benefici del nostro prodotto. Questa è la macchinetta che fa vedere cosa fa un olio normale e come siamo in grado di migliorare. Aggiungo un po' di olio qua, metto in moto, fate attenzione alla lancetta di consumo e alla pressione. Guarda, se io arrivo a 3-4 kg si blocca già tutto e si vede che il consumo aumenta. Aggiungiamo un po' del nostro prodotto, fatto specialmente per la moto, ricordo che esiste anche per la macchina, ma questa è una versione speciale. Allie Davidson, tutti i motori V-Twin. Facciamo di nuovo partire la macchina. Ha bisogno di 10 secondi per creare questo strato protettivo che vale per 100.000 km, anche facendo cambio dell'olio. Sono passato 10 secondi qua, ora posso già rinforzare, prima a 3 si fermava, ora siamo a 6, siamo al doppio, il motore gira. In 100.000 km, questa è l'importanza. Se devono fare il cambio dell'olio, facciamo anche noi il cambio dell'olio. Fermo il macchina, prendo un'altra vaschetta di olio, metto un olio nuovo, anzi faccio una prova pazzesca, prendo acqua naturale. Ora, non lubrifico più con olio, ma lubrifico con acqua. Perché questo? Per far vedere in modo semplice e chiaro che il trattamento non è nell'olio, ma si è fissato davvero sulla parete. Guarda qua bene la lancetta, con acqua, lubrificato, posso stressare il motore più, come potevo fare prima con un olio normale. Questo possiamo fare anche 5 volte perché il prodotto è garantito per 100.000 km. Questo è l'unico prodotto a livello mondiale che è capace di fare questo. Additivi vanno via con il prossimo cambio dell'olio. Il nostro è un rivestimento, un integratore che va bene per tutti i tipi di mezzi, per tutti i motori che ci sono sul mercato. Nuovo, vecchio, grande, piccolo, macchina, moto, camion, barca. E dappertutto dove girano pistoni, dappertutto dove c'è sfregamento, il nostro prodotto si appiccica e fa un bel lavoro. E' resistente? E' resistente. Si rovina di meno, consuma meno carburante, consuma meno olio e così via. Una lista molto molto lunga. Ripeto, sul nostro sito www.ceramicaulic.com si trovano oltre mille testimonianze da tutti i tipi di persone che hanno provato, che sono soddisfatte e tornano indietro. Ultima cosa, in Italia abbiamo oltre 500 punti vendita fra meccanici, autoaccessori e motoaccessori. E questa è la cosa interessante. Noi non facciamo la vendita in fiera, domani siamo spariti, ma siamo da 20 anni sul mercato italiano e i clienti si fanno fiducia da oltre 20 anni e noi presumiamo, se io riesco, andiamo avanti poi tra 20 anni.